Oggi e domani si tiene invece la riunione semestrale dell'OPEC, paesi che però arrivano a questa riunione in maniera molto fratturata. Ad esempio il ministro dell'Iran ha affermato, lo abbiamo intercettato a Vienna, che non ha alcuna intenzione di ottemperare alle richieste dell'Arabia Saudita, di pompare più petrolio, ora che i corsi si sono ripresi. Grazie ancora, alla prossima. Ogni decisione all'interno dell'OPEC è presa all'unanimità e non credo che in questo meeting riusciremo a raggiungere un accordo. Un aspetto importante che vorrei sottolineare però è che l'OPEC è un'organizzazione indipendente, non è un'organizzazione politica. Il presidente Trump ha creato delle difficoltà all'interno del mercato petrolifero e ora si aspetta che l'OPEC intervenga sui prezzi a suo favore. Non è corretto, l'OPEC non fa parte del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. E l'OPEC non è parte del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Commentiamo allora che cosa potrebbe emergere da questa riunione dell'OPEC con Alessandro Allegri, l'amministratore delegato di Ambrosetti Sim. Buongiorno dottore, ben ritrovato. Buon dito. Allegri, l'OPEC oramai da dieci anni è il cartello più disfunzionale di tutti perché non vanno mai d'accordo, neanche quando c'è da far soldi. Sì, diciamo che sicuramente ci sono delle tensioni sul fronte del petrolio che andremo a vivere molto probabilmente in maniera più intensa nella prima parte del nuovo semestre. Questa è un po' l'impressione che ci siamo fatti e i dati ci portano ad attendersi un po' di volatilità in più sul petrolio. Infatti il tema è che alcune nazioni, perché sta accadendo questo? Spieghiamolo anche a casa. Alcune nazioni che hanno un break even di estrazione, c'è un prezzo oltre il quale fanno i soldi veri più basso, spingono per pompare di più. Chi come l'Iran è in difficoltà, anche a causa delle sanzioni americane, spinge per tenere il prezzo alto. Tutto questo considerando anche che gli Stati Uniti sono il primo produttore mondiale. Ora le chiedo, questi 75 dollari che abbiamo faticosamente raggiunto, possono essere tenuti oppure addirittura perderemo queste quote? Sto parlando del contratto Brent. Diciamo che non sono una soglia così significativa per gli equilibri attuali, nel senso che la prestatura che abbiamo visto attorno ai 78-80 dollari per noi è rappresentato un target significativo in ottica proprio strategica. Quindi è molto molto probabile nelle prossime settimane, soprattutto con l'inizio del nuovo semestre, assistere a qualche pressione in vendita in più e probabilmente sotto i 70 dollari inizieremo a vedere delle aree interessanti dove fare dei posizionamenti a favore di petrolio. Il grosso recupero è stato fatto, per ricordo arriviamo da quotazioni veramente altissime, siamo scesi attorno ai 30-25 dollari e da lì è ripartito il movimento di recupero del prezzo con movimenti estremamente significativi nel giro di pochi anni. Quindi adesso molto probabilmente andremo a lavorare a quest'area attorno ai 70 dollari che è molto importante. Allegri, le faccio ascoltare anche la minaccia, non la posso definire altrimenti, che arriva dal ministro dell'energia e del petrolio indiano. L'India non è che produce petrolio, ma ne consuma, ne consuma tantissimo. 8 barili su 10 prodotti dall'OPEC in parte transitano dall'India. Lei dice, se alzate i prezzi, ecco cosa faremo noi. Sentite. L'India è uno dei più grandi paesi consumatori di petrolio. Qualche anno fa eravamo all'ottavo posto, adesso siamo al terzo posto tra i consumatori netti di greggio. L'83% del petrolio prodotto dall'OPEC viene consumato da noi o viene comunque richiesto da noi. Eppure il mio messaggio qui a questo meeting di Vienna è che dovremmo avere un trattamento preferenziale. rispettiamo le leggi di mercato che devono operare in piena libertà, ma non si può alzare troppo il prezzo del petrolio, perché l'India, che come ripeto è il terzo consumatore di petrolio, è una nazione molto price sensitive e potrebbe rivolgersi ad altre forme di energia qualora il petrolio diventasse troppo caro. E adesso questa ultima parte della frase che le faccio una domanda allegra. L'India dice che potremmo rivolgerci ad altre forme di energia, è un paese molto indietro dal punto di vista dell'efficienza economica. Per il resto del settore energetico vede qualche tipologia, penso al gas naturale o alle rinnovabili, che potrebbe avere un boom come conseguenza di questi giochi di forza che si stanno decidendo in questi giorni? Allora, diciamo che tutto ciò che l'energia rinnovabile può rappresentare e rappresenterà sicuramente un business per i prossimi 25-30 anni estremamente significativo. Tuttavia deve superare, deve essere guidato e alimentato da normative. Diciamo che la minaccia indiana secondo noi sembra più una minaccia di carattere politico e fa riferimento probabilmente ad alcuni potenziali accordi con paesi che producono energia di carattere nucleare. Quindi potrebbe essere quello, se mai, l'elemento più impattante in una fase di trattativa e di tensione come quella attuale. Grazie allora all'amministratore delegato di Ambrosetti Sim per questo commento alla riunione dell'OPEC che inizia oggi a Vienna. Dottore, arrivederla, buona giornata. Arrivederci, sale. Ci fermiamo anche noi perché alle 9 dovremmo, e lo faremo sicuramente perché non abbiamo intenzione di andare da nessuna parte, commentare la fase di negoziazione continua insieme. Rimanete con noi qua, Caffè Affari. Grazie.